La CGL di Torre del Greco si rilancia e propone nuovi servizi sul territorio. Questi gli argomenti trattati nel corso dell'incontro l'impegno sindacale sul territorio fra le tematiche del passato e le sfide del futuro tenutosi nei giorni scorsi presso la Camera del Lavoro Torrese in Primo Vico via Vittorio Veneto. Alla presenza anche di Nicola Ricci, segretario generale della CGL Napoli e Campania. Noi abbiamo pensato di rilanciare sul territorio tutte quelle che un poco erano le mancanze, le carenze che abbiamo negli anni messo in piedi, quindi rafforzando il ruolo reale che la CGL sul territorio negli ultimi anni ha fatto. E quindi oggi con la presenza del segretario generale Nicola Ricci e con altri pezzi che abbiamo messo in campo ragioniamo e discutiamo con tutti i compagni che sono presenti per il rilancio di alcune attività sul territorio. Parliamo dei marittimi, parliamo un pochettino dei lavoratori edili, parliamo del rafforzamento della fede del consumatore, parliamo del rafforzamento della sud del Sunia, del Nidil. Poi rilanciamo ancora con forza il potere politico che la CGL ha conquistato negli ultimi anni con delle iniziative e che noi sinceramente siamo sul territorio e pensiamo di starci con forza determinando anche alcune scelte che l'amministrazione si appresta a fare per quanto riguarda i PNNR e tante altre attività circa i livelli occupazionali. A Torre del Greco abbiamo ripreso un rapporto che non era interrotto con la nostra base, con i nostri iscritti e con questa città. La CGL dopo due anni di lockdown si riappropria del territorio e la nostra missione oggi è dire a CGL c'è, un presidio di democrazia, dare assistenza non solo ai nostri iscritti ma a tutti i nostri servizi, ma soprattutto una sede a Torre del Greco che davvero testimonia una linea politica e una volontà di essere costruttiva con le tante sfide e con quello che noi riteniamo il nuovo modello di sviluppo per tutti i nostri comuni, per il paese e per il Mezzogiorno. Tra le nuove attività in cantiere uno sportello per i lavoratori marittimi. Abbiamo affrontato un problema che da molto tempo affrontavamo ma non portavamo a termine, cioè l'apertura dello sportello marittimo a Torre del Greco. Una necessità visto che sul territorio una delle prime attività è proprio quella dell'attività marittima. È ovvio che lo sportello marittimo agirà in sinergia con gli altri servizi della CGL, Camera dei Lavoratori di Torre del Greco. Noi vogliamo decisamente stare sul territorio e avere ogni giorno sempre di più il rapporto con i torresi. Siamo in cerca di nuove opportunità di cantieri edili, come ben si sa in giro che c'è la situazione di 110, la situazione di bonus 110 più con bonus affacciate che comunque stanno veramente riempendo tutti i paesi nei rintorni e anche qua Torre del Greco. Abbiamo pensato di istituire a Torre del Greco qui nella sede della CGL uno sportello di ascolto, di counseling. Cosa significa? Significa che le persone che hanno voglia di voler parlare, di condividere le proprie problematiche, anche le proprie emozioni, diciamo, troveranno uno spazio. Come amministrazione, come sindaco sono stato presente proprio per dare la mia vicinanza a tutte le iniziative che vengono poste dal sindacato e tutte le idee che possono essere utili, specialmente in questo momento di PNRR, di tutti i cantieri che possono essere aperti per la sicurezza dei lavoratori. E quindi tutto quello che è di utile affinché la nostra città possa crescere e crescere con i lavoratori e con l'appoggio dei sindacati. Grazie. Grazie. Grazie.